dagli infortuni e nella sfortuna che hanno avuto entrambe è strepitoso il numero di Bodiroga speriamo essere oggi in grandi condizioni perché ne abbiamo bisogno anche durante la trasmissione ci sono un cadenzio anche adesso Deam Bodiroga, Mauro è importantissimo questo inizio di Deam Ghin, strepitoso tra parentesi Meneghin che ha recuperato già parecchi rimbatti, grande Deam Bodiroga c'è purtroppo un infortunio ad Ingi Deam Bodiroga, Deam Bodiroga va in penetrazione va a segnare da sotto Deam out chiesto immediatamente da lascia Deam Bodiroga manda via il compagno, vuol giocare uno contro uno Deam da tre punti ed entra finalmente un battente in difesa su questo giocatore Deam Bodiroga vuol giocare uno contro uno palleggio, resta di tiro e va a segno Deam ispiratissimo oggi della palla in campo, Dacio Bianchi Claudio Pilutti, Deam Bodiroga riesce ad andare a segnare ancora Deam chiama il gioco per l'uno contro uno Deam vuole giocare uno contro uno, eccolo qui poi serve molto bene Sandro De Pol che va a segnare da sotto alla fine del primo tempo Dacio Bianchi, ancora Deam Bodiroga Deam trova lo spazio per il tiro e va a segno ancora perdonate la tosse, Deam riesce a segnare ancora una volta infermata rimbazzo di Deam Bodiroga, va in contropiede Deam penetra e va a segnare da sotto Deam Bodiroga Deam gioca due con Dino, riesce a liberarsi, trova lo spazio per il tiro va a segno Deam da tre punti abbiamo trovato un due o tre tiri Deam Bodiroga ancora, va a segno Deam guarda davanti a noi con Avedia che marcava anche noi probabilmente anche un po' stanco Dino Meneghini riconquista palla Dacio Bianchi a Deam Bodiroga va a segnare da sotto Deam sciubendo un fallo da Sconocchini perde palla, la riconquista Claudio Pilutti Sandro De Pol 5 secondi, Dacio Bianchi va in penetrazione Deam Bodiroga a mezzo a mezzo a mezzo a mezzo a mezzo